ma bello tutti i ragazzi io sono yes in game e oggi faremo il tour mondiale più altre cose quindi iniziamo non perdiamo tempo prendiamo questo bellissimo regalino 70 lo vendiamo fa niente ok iniziamo con questo 71 che iniziamo già uno zero lo stendiamo sono 91 di genuaga e 67 d'intesa mi sembra 69 e in futuro vi farò vedere la mia squadra iniziamo ho preso dei giocatori che a me interessa solo la velocità nelle fasce guardate per esempio questo prende palla va in velocità velocità poi corsa tira di testa e gol dovrebbe essere così il mio metodo per fare gol ecco per esempio le mie due fasce munire e hakim sono velocissimi sono velocissimi quindi non scartano i giocatori di solito con le mosse abilità e cose del genere e scartano di velocità come abbiamo fatto adesso poi c'è uno di testa e gol non è sempre gol quando c'è noi o importano a volte e ok per esempio qua ci stava la mossa abilità ok ok oh mamma mia cos'è ronaldo ok ok cosa succederà ok pensavo fosse sicuro che bel filtrante bel gol ok ok sono 0 a 0 qua quanto lo sto 71 speriamo di vincere cioè vabbè non parliamo la vittoria c'era in tasca non serve neanche giocare però questo capitolo è tutto vinto per me vado contro secondo me il più forte sarà un 84 che per me sono scarsissimi perché vabbè il gol però non volevo il gol in pallonetto tirava su terra però almeno abbia fatto gol ho la maglia d'ora al madrid che ci sta tantissimo se l'avete notato ma ne ho altre sempre di squadre famose quindi ve le farò vedere e scrivetemi nei commenti cosa preferite cosa volete che metta per il mio team e lasciate un like e iscrivetevi al canale cosa aspetti c'è i miei attaccanti sono tutti veloci questo qua ha scartato tutta la difesa il centro campo e la prende e scarta tutti e valgo bello non so neanche fare i passaggi che bello nooo mamma mia quanto ci stava questo tiro lo rivediamo lo dribbla va in verità ragazzi lo tirare al giro però ci sta anche questo mamma mia stavo per esultare ma lo dribbla ah nooo dalla Hakimi ok l'ove l'ove mamma mia che gol vabbè se lo sbagliavo cioè lo ammazzavo non doveva neanche tirare da quello doveva tirare a destra oi o questo qua ok uno lo fa hachimi bello bello ci sta e l'ha messa angolata tra un po' era pale quindi bene 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 c'è appena stato l'evento di halloween oh mamma mia come dicevo c'è appena stato l'evento di halloween e volevo prendere pickford mi mancavano tipo 8 punti 10 non so e mancavano 6 minuti quindi non ce la facevo a prendere quei punti in tempo e quindi prendo lores loren 88 però ci sta anche quello perché lui mi hanno dato anche il logo e ho trovato anche due lores uno l'ho tenuto in squadra uno l'ho venduto e ci ho guadagnato volete il prezzo da vendere il prezzo di loren sui 1200 fifa points è tutto vendete e ci guadagnate con quello infatti hachimi era un 87 e 87 l'ho portato a 90 con quei soldi sono anche rimasti un po' li trovo li trovo da parte per per magari magari potenzione notabilità infatti tutti tranne questi 15 vabbè manca manca tanto e visto attacco che mi danno 300 mamma mia andiamone a prendere facciamo una partita facciamo una partita allora eccoci qua contro questo 89 speriamo di vincere mamma mia non voglio perdere i tifosi quindi continuiamo questo è gol dai ma favore non l'ho mai sbagliato e non lo sbaglio mai anche questo facilissimo che belle occasioni che mi danno no ho poco ho sbagliato è la prima volta in vita mia no no segnalo arriva bomba eh 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 adesso mi vincono ma cosa come fai a sbagliarlo boom boom bellissimo si raga dai pareggiamo pareggiamo cioè facciamolo almeno facciamolo angolo angolo perfetto a uomo si marca si marca esiste in marca si si buttala l'ultima occasione dai era gol mamma mia ho sbagliato cosa due occasioni ho sbagliato due ultime occasioni ho sbagliato tre occasioni normali ho sbagliato tutte le occasioni base entropiedi non ci le hanno dati vabbè era più forte di me in intesa quindi questa la facciamo passare facciamo un'altra l'ultima poi faccio vedere le maglie che ho un'altra l'ultima 87 buono è anche meno intesa di me Vediamo 40% 20 Vabbè lo batto Lo batto Cioè 50% di ottime occasioni L'altro 50% Occasioni normali Certo che vinco Partiamo bene Partiamo bene Un bel tiro Oh Bello Oh Sì 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 Ma Ma come Ha segnato No Oh Ovi solto Agora Ovi solto Ovi solto Ovi solto Ovi solto No 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 La sfortuna che ho adesso segna Segna Dali Le abbiamo vinto Poi Poi mi hanno dato Un casino base Che non ho fatto Ok Ottimo 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 Allora Di panno Di panno Ce l'aveva Agnello Polcino Eh Vecchi tempi Ehm Vabbè Il logo Lo stemma Sai cosa facciamo Raga Facciamo Teniamo Teniamo quello Del alma Divisa Fighissima Fighissima Fattuto Quella Nera Questa Queste Questa 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 squadra Che è Fiorentina Questa Non la conosco Questa Questa Il Pescara Questa 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 Oh raga Anche questa È bellissima Raga Ci sta Questa Che bello Questa 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 Quella del totemont Bella Questa Questa del Napoli Questa Marsiglia Porto E poi Rara Sono belle Raga Quindi vorrei Scegliere Aspettate Ma non si potrà Scegliere Anche No Non ci interessa L'anno scorso Mi sembrava Che si poteva Scegliere Anche lo stadio Boh Grafica Eh Quello Quello E Spendiamo Un pacchetto Allora Bella Bella raga E ci vediamo Al prossimo Video E Ciao Lasciate un bel like E iscrivetevi E Ciao